Una faida interna o contrasti con altri gruppi malavitosi del quartiere, diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti che indagano sull'ennesimo agguato che macchia di sangue le strade di Napoli. I killer hanno agito ieri nel quartiere fuori grotta, l'attacco mortale è scattato poco dopo le 21, nei pressi di un distributore in piazza Lala, a cadere sotto la raffica di proiettili il trentenne Andrea Merolla, ritenuto vicino al gruppo malavitoso locale, quello dei Troncone. Gli investigatori non escludono alcuna pista per il momento, potrebbe essersi trattato di un'imboscata maturata nell'ambito di dissidi interni al clan, visto che l'omicidi è stato messo a segno in una delle zone di fuori grotta ritenute riconducibili al gruppo. Ad agire potrebbero essere state però anche organizzazioni più strutturate, localizzate nella zona della cosiddetta Torretta, base del clan Frizziero. Da una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, Merolla si trovava in sella al suo scooter, quando è stato raggiunto dai sicari, che a bordo di una moto si sono avvicinati e hanno esploso i primi colpi. Il trentenne ha cercato disperatamente di ripararsi dietro alle colonnine di un distributore di carburante, ma è stato raggiunto al torace da un proiettile che non gli ha lasciato scampo, portato all'ospedale San Paolo da alcuni passanti che lo hanno caricato in macchina. È morto intorno alle 23. Sul posto è intervenuta la polizia. A terra sono stati trovati quattro bossoli calibro 9. Quello di ieri è già il secondo omicidio che avviene quest'anno a fuori grotta.